Bella ragazzi dagli Zero Team e dal vostro Ryuka per un altro video di Mate in 2 Sono qui in compagnia del mio famosissimo amico Lyserg Ciao ragazzi In questo video parleremo prima di tutto del canale che dopo un mese non caricavo video Perché ci sono stati problemi con l'altro mio socio che è un nabbo di merda Se lo sente è un nabbo E quindi non ho potuto caricare, non ho potuto commentare, qualsiasi cosa non ho potuto fare Quindi sono qui col secondo video perché abbiamo fatto il primo video che era una minchiata Era tanto per farvi avere notizie di me E quindi ora parliamo un po' di questo scopo del video giusto Quello che io ho intenzione di fare Prima di tutto ho fatto questo PG insieme al mio amico Lyserg Che abbiamo deciso di giocare su Mate in italiano Server Revenge Se mi volete aggiungere sono Sir Ryuka E lui è ZZ Lyserg ZZ Non vi scordate l'EZ perché si incazza Quindi Volevo fare tipo uno sviluppo del PG nel senso Tipo dal livello più basso fino ai livelli più grandi E poi compiere opere un po' straordinarie Tipo uccidere boss, preforzieri, metin Queste cose, solite cose che si fanno Per cazzeggiare un po' per divertirsi in compagnia E poi ho modificato il mio equip C'ho la corazza di ferro più 6 Prima avevo la mia bellissima Monaco Non la tradirò mai Anche se è più 4 Però la ferro regna Poi ho uppato un po' le scarpe Vabbè queste qua non fate caso Io li devo cambiare perché vanno schifo Più 2, più 3, più 2 E oggi va Tenteremo anche perché siamo qui In posto che facciamo un video Uppiamo il battaglia che è più 5 C'ha pure 6 vitalità Cioè Possiamo upparlo Vediamo se Proviamo dai Intanto Siamo tutti in compagnia E' riuscito più 6 ragazzi Tutto a culo Eh tutto a culo Non è culo Questa è bravura No Allora è tutta bravura Quella tua Sì quella tua è tutta bravura Non potete capire È bravura quella di Peppa Non potete capire Si è fatta la tigra più 7 Se non siete molto bravi Di media tigra E' da livello 18 per il war Si è fatta più 7 Poi si è fatta tutti Bracciale, orecchini, collana, scarpe Tutte più 7 Più Il bracciale è più 8 Ah il bracciale è più 8 Più l'elmo che è Come potete vedere io non ce l'ho Guardate che bella la testolina Invisibile No perché mi è fallito Mi è fallito da più 0 a più 1 Che bella cosa Però è stato quello del primo pillo Fabio Questo è più simpatico Guardate C'ha pure una freccina Chi 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 Beh vabbè Poi Aspetta un secondo Vediamo Qui Ecco Possiamo continuare Non so Peppe Che ci vuoi raccontare Anche tu Il tuo scopo Perché hai iniziato a giocare A meeting 2 italiani Allora per far rosicare gli amici Niente di che Che bella Questo è lo scopo Questo è lo scopo di Peppe Del nostro Lyserk È un bellissimo scopo secondo me Anche se far rosicare un bordello Anche a me lo devo ammettere Però io Vi sono collegato a livello 1 Proprio ho fatto il PG Arrivo vado in piazza Incontro lui con lo spadino più 9 Io già c'ero rimasto male E facciamo a me lo pagato No per ora ce l'ho pure io Grazie a lui Che me l'ha prestato Quindi Visto Almeno c'ho un po' di Faccio i cuoricini a Peppe Puzzo Facciamo i cuoricini a Peppe Peppe Ho scritto pure di merda Aspetta Però dico che sei etero Sennò la gente ti Ti mette un po' Tranquilli Siamo tutti e due eteri Tranquilli No perché voi Eh lui Lei di più di me dai Ammettiamo Lui è fidanzato Ma che cazzo Mi fa il cuore solo qua È impazzito Ok Vieni guardate che bello il mercantitano Salutate Ciao mercantitano No basta Vieni allora Salutiamo la bottegaia Perché dovevo comprare anche delle pozioni Però 6k Non so che cosa fare Ho capito Mi collego via io Dai dai Gli ho fatto venire Lo spino Dai vieni Vieni mi a trovare Mi sono sulle 4 Vieni No io pure sempre su 4 Ora Avremo la compagnia del qui Il qui famigerato Lizer Che è bastardo Mi ha superato anche di livello Sei al 21 al 20 Quanto sei? Al 20 Al 20 Io sono al 17 Facciamo la faccina triste La faccina triste Faccina triste Però guardate che figa La spedina che brilla Celestina E viola E io Allora Sì Non può essere Secondo pausa Scusate L'inconveniente Ma mia zia Deve scopare sempre Non pensate male a scopare Deve pulire Pulire a terra Ecco E quindi Giusto giusto Quando io faccio il video Lei che fa? Apre le porte ed entra Senza il permesso pure Certo Quindi Vieni Dove sei arrivato Peppe? Della 2 Dove Ho sloccato Ok Nel frattempo Che aspettiamo Il nostro amico Vendiamo un po' di cose Vendo La forca Che è un cappé ottimo La forca No la forca La forca Maleducato Oh car Oh Kaiser Stavo dicendo una cosuccia brutta Ho trovato Corazzo dello Spirito Con magia Quattro magie Tanti e poco Sì però Confrontare la mia leone Con dieci Guarda Ditevi che questo non è culo Lui ha trovato la leone Con dieci magia E la cosa bella Che lui uccisi i mostri E lui trova le cose E' normale E' normale Guarda Mi mostri di brutale Vediamo se abbiamo culo O troppo luna Dove C'è stronzo o vaffanculo Andiamolo a trovare Dai andiamo 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 a trovare Noi avevamo le skill M5 Ah si Noi Abbiamo lasciato Metin Prima perché Lui l'hanno bannata E poi perché Io da solo Mi stuffavo un pochino Eravamo su Non su Revenge Ma bensì su Gemini Lui aveva un guerriero Ben messo Molto ben messo Era il 40 Quanto? 42 Eh cazzo Non mi ricordi Vabbè Sul 40 40 con penetrazione M5 E aveva anche La lascia gigante Più 9 La tigre più 9 Tigre più 9 Eh invece avevo Avevo Il ferro Droppato a culo Più 6 Che poi L'ho fallito La più 7 E quindi già Dove sei? Eh lo dico perché Non vieni Dai 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 Dove sei? Dove sei? Ah beh Diamo la vita Eh dai Bellisca Vabbè dai Facciamoci qualche brutto Questo Ex pia un pochino No dai Ce l'ho io Tenti mi fai Eh? Allora Guardate su 2 Eh liscia Che sì Ah sì Mi scelta del mio personaggio Noi ci dobbiamo fare Campana antica Dei lupi maledetti Infatti Con me sono maledetti Proprio non troppo niente Con lui Farvi capire Proprio si chiama maledetti Perché a me proprio Non mi hanno mai dato niente Lui ci troppa a livello 60 Tu un eferri Io non mi troppo un cazzo A qualsiasi livello Ah anche a livello 1 Tutto bummiato niente Oh cazzo questo mi sta uccidendo Non me ne era accorta Vabbè mentre che Ah parliamo perché ho scelto corpo Scelto Vabbè non corpo mentale Scelto il warmente Prima di tutto perché Se Grazie a Qui corpo Puoi reggere a qualsiasi livello Molto di più del Del Guerriero Corporale Perché Il guerriero corporale È basato sulla velocità E sull'attacco Infatti c'è aura Che aumenta Se c'è m5 m6 Abbastanza l'attacco Invece Corpo forte Per i mentali Aumenta un bordello La difesa E quindi Regge molto molto di più Poi l'ho scelto pure perché Livelli bassi È meglio Il mente Del corpo Anche Dipende che cosa devi fare Livelli alti Se sei Solo Solo Eccomi ragazzi di nuovo Stiamo parlando del mente Del corpo Penso che avete Avete capito Quello che volevo intendere Quindi Già che siamo arrivati a 10 minuti E 3 secondi Beh Penso che Anche Perché questo video Lo metterò in HD Quindi per caricare Ci starà Un pochino di più Meglio che Ci salutiamo ora E ci rivedremo Nel terzo video Da Sirryuka Da Peppe E dagli Zero Team Bella raga Per il prossimo video Ciao